Una serata di ritrovo per il San Termete Calcio in vista della nuova stagione nella location il sabato del villaggio ubicato in quel di Toriana. Tra una pietanza e l'altro è stato definito l'obiettivo del club in vista della prossima stagione in promozione, giorno del raduno e calendario amichevoli. La campagna acquisti al momento può dirsi completa, soddisfatto il presidente Alex Martino, mister Pazzini, DS Cipriani e dirigente Molari. Attraverso la complicità di uno dei giocatori più esperti della rosa, vale a dire Gattei Colonna, abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti della prossima stagione. Iniziamo con i giocatori Merendino e Mezzgur. Siamo qui con Dario Merendino questa sera. Allora Dario, come va innanzitutto? Tutto bene? Tutto bene, ci stiamo preparando per la stagione. Bene, bene. Quali sono le aspettative di questo San Termete di quest'anno? Ma direi di riconfermare l'inizio dell'anno scorso, insomma abbiamo iniziato molto bene, perciò ripartiamo da lì, da le cinque partite che abbiamo fatto l'anno scorso, che abbiamo vinto tutto e le abbiamo vinte tutte e abbiamo fatto molto bene, perciò ripartiamo da lì. Il tuo obiettivo invece è a livello personale? Ma a livello personale sinceramente non ho grandi obiettivi, mi interessa che il San Termete faccia un bel campionato e magari arrivare in fondo a giocarsela fino alla fine per poter magari andare su in eccellenza. Quale può essere il ruolo del San Termete invece in questa stagione di quest'anno? Sicuramente da protagonista, insomma, come ho detto prima l'anno scorso siamo partiti bene, abbiamo una rosa molto competitiva, la società è seria, organizzata e ci permette di lavorare bene, quindi credo che San Termete abbia tutte le carte in regola per essere protagonista. Qualche parola invece sul gruppo, come hai visto i ragazzi stasera e come secondo te, le tue sensazioni? I ragazzi li vedo molto molto bene, siamo tutti molto carichi, sono tutti convinti dei propri mezzi, perciò come è giusto che sia, quindi insomma li vedo molto molto bene, abbiamo un anno a tutti in più, siamo magari quelli più vecchi di pazienza, però abbiamo dei giovani interessanti che con un anno in più possono farci la differenza. Siamo qui ora con Bomber Mezgur, ciao Mez, allora come sta andando la serata? Molto bene, dai, ci stiamo divertendo, è bello ritrovarci dopo tanto tempo tutti insieme. E allora quali sono i tuoi nuovi obiettivi per questa stagione che sta per iniziare? Il mio primo obiettivo è speranza che quest'anno ci fermino di nuovo e potercela giocare fino alla fine con le altre squadre che quest'anno secondo me è un campionato molto molto interessante per essere una promozione. Ecco appunto colgo l'occasione per chiederti quali sono le tue sensazioni e chi sono le favorite per questo campionato a salire? Le favorite sono tante, a vedere il mercato che c'è stato, tante squadre sono rinforzate, avendo anche visto il campionato dell'anno scorso, quindi ci davano per favorite. Però quest'anno secondo me partiamo un pochino dietro rispetto a altre squadre che hanno speso molto di più, però dalla nostra parte c'è la compattezza del gruppo dell'anno scorso e dei nuovi e poi c'è la dirigenza dietro che ci spinge, quindi puntiamo su quello. Sappiamo che lavori anche con i bambini, quanto ti diverte questa cosa e in futuro pensi ci sia un ruolo sempre del genere, che lavorare con i bambini nel settore giovanile eccetera, pensi di proseguire questa carriera ulteriore? Me lo auguro, quest'anno stiamo gestendo il camp e sta venendo su una bella cosa, abbiamo tanti bambini iscritti 120 e la media è sui 95 al giorno, quindi è un bel lavoro. Io mi diverto sempre con i bambini, chi mi conosce lo sa, sono un bambino dentro, quindi mi piace stare con loro. Il futuro è quasi prossimo, perché non è che posso giocare per tanti anni, però qua a Sant'Ermette c'è un bel progetto, quindi sono tornato anche per quello, date che quest'anno sono andato a giocare a San Marino per tre mesi, però quando il direttore sportivo mi ha richiamato non ci ho neanche pensato più di tante, quindi la voglia di continuare ancora con Sant'Ermette. Ecco, colgo l'occasione, visto che abbiamo introdotto l'argomento, pensi che il direttore Cipriani abbia fatto un buon lavoro fino adesso, manca qualcosa con Sant'Ermette, quali sono le tue idee? Come l'anno scorso c'è molta fiducia nel direttore, quindi poche società hanno un direttore come il nostro e c'è la massima fiducia e da parte del nostro giocatore anche dei... no 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 no, mi fanno gestarci dietro. Io il direttore lo conosco da tanto tempo, è ambizioso come me e quindi io con tutti l'ho detto, la nostra forza è il direttore sportivo e poi vedremo a fine anno chi avrà ragione. Grazie.